Per il prossimo anno accademico ricca l'offerta formativa dell'Università dell'Aquila. 67 corsi di studio, 64 già accreditati, 39 ad accesso libero, 20 ad accesso programmato nazionale, 5 ad accesso programmato locale. Altri tre corsi, in attesa del decreto ministeriale di accreditamento iniziale, verranno attivati per l'anno prossimo. Si tratta di locopedia, scienze e tecnologia dell'atmosfera, scienze applicate dei dati. Altro pezzettino aggiunto al puzzle dell'offerta formativa dell'Ateneo è un master in mediazione linguistica. Ci sono poi corsi di studio con accordi internazionali finalizzati al rilascio del doppio titolo. L'ultimo il corso di economia con indirizzo management che offrirà il curriculum internazionale con la prestigiosa Università di Tuente in Olanda. La conferenza stampa dell'università ha rappresentato l'occasione anche per presentare gli importanti risultati molto positivi del ventesimo rapporto di Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati. Già per il 2016 i dati del rapporto erano positivi. Per il 2017 le risultanze sono ancora più soddisfacenti, ha detto la rettrice Paola Emberardi. La novità è che intanto ampliamo l'offerta. Devo dire che la nostra offerta è già una offerta molto ampia, però abbiamo ritenuto quest'anno di voler fare uno sforzo ulteriore per offrire delle cose nuove, molto belle, che vanno nella direzione di come si sta vivendo la società oggi. Noi siamo molto soddisfatti perché eravamo già in un'ottima posizione, infatti c'è stato l'anno scorso un famoso articolo dell'Espresso che ci poneva come Università dell'Aquila, come prima delle università all'interno del panorama nazionale, prima università del centro-sud come università generalista con i dati occupazionali. Abbiamo dei dati migliori rispetto a quello dell'anno scorso, quindi una maggiore occupazione sia dei triennali che delle magistrali, ed in più credo che sia interessante, abbiamo sempre un numero molto alto di laureati che vengono da fuori regione, quindi questo vuol dire che la nostra offerta è effettivamente un'offerta appetibile per studenti di un territorio più vasto che non quello dei nostri confini amministrativi.